Il format tv incentrato sui nuovi disagi, i nuovi malesseri riguardanti le nuove generazioni che stanno influendo soprattutto nella crescita di esse, nel corso delle nostre puntate abbiamo parlato di dipendenze da gioco, dipendenze da videogiochi, abbiamo parlato di ricerca con l'Università di Arezzo insieme alla dottoressa anche Ilaria Vidini riguardante il bullismo, abbiamo parlato di dispersione scolastica, della crescita dell'individuo, riprendiamo però quest'oggi un tema già aperto nella scorsa puntata, quello dei disturbi alimentari, lo facciamo sempre con la dottoressa Laura Ceccherelli che ringrazio nuovamente per aver accettato il nostro invito per riuscire a approfondire ancora di più quelle che sono le tematiche legate a anoressia e bulimia, due temi molto molto scottanti possiamo dire al giorno d'oggi, due forse fra i disturbi più significativi di quest'oggi. Allora io inizierei, innanzitutto stima scorsa abbiamo parlato in modo un pugno più generico di disturbi alimentari e dell'associazione di cui ti occupi che serve anche per aiutare chi riconosce queste problematiche. Perché avvengono anoressia e bulimia, anzi prima direi cosa sono e come si distinguono? Allora, anoressia e bulimia fanno parte appunto dei disturbi della condotta alimentare, l'anoressia come classicamente tutti quanti immaginano nella propria immaginazione, proprio immaginario, è la restrizione dall'alimentazione, quindi una privazione dell'alimentazione. La bulimia invece è una abbuffata con il suo susseguirsi di pratiche per l'eliminazione del cibo che possono essere più variegate. Perché questi sintomi oggi? Diciamo che c'è un dilagare di questi sintomi che sono più, tra virgolette, incentrati nel corpo, laddove in questa società contemporanea dove siamo spinti al consumo degli oggetti, a un impoverimento comunque sia della figura paterna, della simbolizzazione comunque sia istituzionale, dalla famiglia alle altre istituzioni, c'è un impoverimento anche da parte soggettivo di quali possano essere poi le risposte sintomatiche uno per uno. Quindi mentre una volta c'era un aspetto di metaforizzazione maggiore, per cui era più un conflitto intrapsichico, oggigiorno questo conflitto emerge, si sposta e diventa proprio il corpo della persona stessa, diventa proprio lo scenario in cui avviene questa tensione, questo conflitto. È una compromissione del rapporto con gli altri, per cui c'è comunque sia un misconoscimento di un bisogno esistenziale, di un riconoscimento esistenziale che si cortocircuita nel legame patologico con l'oggetto alimentare per le persone che hanno questa predisposizione come oggetto pulsionale legato alla propria modalità di strutturare il legame sociale. Quindi vediamo ad esempio nell'anoressia una separazione totale, un tentativo di separazione dall'oggetto cibo, un muro, una schermata totale e un'iperidealizzazione del corpo come corpo magro, che però ecco lì c'è un problema rispetto allo schema corporeo, cioè il corpo non è più padrone di se stesso, ma è soltanto entra in funzione dell'oggetto orale, e quindi c'è questa perdita del limite e del cercare di dimagrire sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a che il corpo si oggettifica proprio a uno strumento di angoscia, cioè per ripararsi dall'angoscia il soggetto stesso diventa proprio l'angoscia per l'altro, infatti in questo caso sono molto spesso i genitori che si allertano, si spaventano moltissimo, proprio per questa perdita di controllo che vedono la parte della figlia, mentre invece la figlia stessa pensa invece di avere il controllo totale sul cibo. Nella bulimia invece questo è diverso, c'è sempre una soluzione più magica, nel senso che il rapporto col proprio corpo rimane normolineo, nel senso che non c'è più questa spinta rispetto a un'idealizzazione del corpo magro che incarnava invece l'anoressia, ma c'è invece rispondere ad un imperativo di abbuffata che viene poi compensato con l'eliminazione del cibo, per cui c'è questo proprio aspetto di ciclicità tra l'abbuffata e poi l'eliminazione che può essere o con il vomito autoindotto, oppure anche con lassativi, con tutte queste procedure fai da te per poter eliminare quello che si è ingerito. C'è nella bulimia in genere un misconoscimento, un problema legato comunque sia all'amore, sono tutte e due un po' legate comunque sia all'amore come inteso, come riconoscimento esistenziale. Quindi laddove c'è una frustrazione, ad esempio nella bulimia, c'è poi l'abbuffata come compensazione, spostando da una questione di vita reale, quindi dagli altri, a un oggetto cibo per controllare questa cosa e c'è una come illusione compensatoria di ricostruzione di questo qualcosa che è venuto meno nella vita quotidiana. Ecco, poi nella scorsa puntata abbiamo parlato anche di alimentazione incontrollata e di obesità iperfagica, giusto? Sono due tematiche che comunque, anche se parallelamente, sono molto simili all'anoressia e bulimia. Sì, assolutamente, soprattutto sono molto più vicine al versante bulimico, cioè questo imperativo all'abbuffata e al mangiare. Ecco, nel caso ad esempio dell'obesità iperfagica, che non è annoverata ad esempio nel DSM quinto, ma a livello, cioè noi nel campo psicoanalitico ritroviamo questa cosa, perché si stacca un po' dal lato medico, nel senso che non è che c'è un problema dismetabolico e basta, ma c'è proprio un'assunzione irrefrenabile di cibo, dove il soggetto si aliena proprio all'assunzione del cibo. È proprio il versante opposto dell'anoressia, dove da una parte c'è il tentativo di separarsi, dall'altra c'è un'alienazione totale, come una rifusione, una fusione completa di questo oggetto perduto, a livello, proprio parlo del complesso di svezzamento, dove c'è appunto che è il primo oggetto di soddisfacimento tra la madre e un bambino, è come quindi recuperare questo momento mitico in cui tutto è perfetto. Quindi mentre poi da un lato, ad esempio nell'obesità iperfagica, il cibo ha sempre il suo aspetto di piacevolezza, ad esempio nella bulimia questo un po' si perde, cioè è proprio un riempire e svuotare, riempire e svuotare. Mentre invece nell'anoressia c'è proprio un controllo totale che permette a distanza appunto il cibo come qualcosa che non deve entrare nel… è proprio un evitamento del rapporto. Se si pensa al cibo come quel veicolo di amore che passa tra una madre e una figlia, infatti nel complesso di svezzamento ci può essere, qualora ci sia qualcosa che non passa di amore in questa relazione, un aspetto mortifero dell'immagine materna, della rappresentazione dell'immagine materna. Quindi ci può essere alle volte un rifiuto proprio del cibo come il rifiuto di quel posto che gli altri familiari possono dare al soggetto stesso, quindi un rifiuto di un rifiuto in un certo qual modo. Ecco, il soggetto ovviamente non sceglie… No, si parla di soggetto dell'inconscio in questo caso, quindi viene automatica questa risposta e la persona non sa perché, ma gli viene da fare così. Quindi è come se ognuno di noi avesse degli strumenti e tra virgolette fa come meglio può per fronteggiare delle situazioni comunque sia angoscianti. Ti ringrazio Laura per questa prima parte in cui abbiamo capito, abbiamo cercato di capire quali sono i disturbi alimentari più presenti quest'oggi. Adesso un po' di pubblicità e poi nella seconda parte approfondiremo ancora di più i temi di anoressia e della bulimia. Rieccoci nuovamente insieme a vivere per questa puntata dedicata ai disturbi alimentari. Con l'autoressa Laura Ceccherelli nella prima parte abbiamo spiegato come riconosce l'anoressia, bulimia e altri disturbi alimentari. Io in questa seconda parte invece cercherei di capire innanzitutto come affrontarli e qual è il percorso poi per riuscire anche ad uscirne. La prima cosa, quando si accorge che questi problemi diventano cronici? Allora, prima di parlare di cronicità direi che si può parlare di... cioè non vorrei parlare di cronicità magari ecco fuori da chi li vede magari pensa... parlerai di strutturazione del sintomo ecco che magari laddove una persona trova funzionale al proprio diciamo stato interiore o come modo per lenire la propria angoscia un tipo di pratica alimentare questo poi si struttura molto bene. Ma ecco, la cosa importante è che attraverso comunque sia un percorso di cura si può trovare altre metodologie di fuoriuscita dal sintomo cioè, allora, come ho detto precedentemente sono pratiche alimentari che sono al posto di altri sintomi cioè è un cortocircuito sul corpo è un sintomo tra virgolette povero povero di elementi simbolici che permettono di esprimere la soggettività per cui in un certo qual modo è la via trovare il modo per dare come lenire l'angoscia in un'altra maniera rispetto alla funzione che può avere il sintomo anoressico o bulimico per poi dopo attraversare la funzione stessa che ha per il soggetto persona per persona perché può essere proprio... si declina in tante maniere per cui da un lato può essersi la difesa di un'angoscia legata anche a un aspetto sulla sessualità ad esempio quando insorge nella ragazza in età, diciamo, puberale, adolescenziale può essere anche contro un'angoscia di frammentazione cioè può essere, diciamo, ha una funzione diciamo, più variegata ecco però noi abbiamo visto che a livello psicoterapeutico ci possono essere proprio più vie per poter uscire da questo disturbo e trovando delle compensazioni e dei sintomi che si possono strutturare in maniera differente cioè più confacente la persona magari più legata al rapporto con gli altri cosa che prima magari quel tipo di sintomo tagliava fuori e la famiglia o comunque chi sta accanto a questo soggetto cosa può fare se si rende conto? perché immagino che comunque l'indio stesso non ammetterà mai o è difficile che ammetta la problematica quindi cosa può fare per riuscire a far capire oppure, rivolgendosi a professionisti quale strada può imboccare per riuscire? allora abbiamo visto che ad esempio quando i familiari fanno una domanda di cura anche per se stessi rispetto a come affrontare la problematica c'è un po' di pacificazione da un punto di vista del figlio ad esempio perché uno degli scopi che ha questo tipo di sintomatologia è proprio svegliare l'angoscia dei genitori per interrogarli su chi sono io per te che posto io ho per te ecco quindi c'è una sorta di pacificazione infatti è un lavoro che va fatto un po' famiglia e soggetto che ha questo disturbo questi sono gli effetti che può avere quindi anche sulla famiglia tranne quello di comunque risviare una consapevolezza da parte dei genitori beh in un atto anche cosa poter fare nel senso che un genitore può trovarsi spiazzato totalmente si sente impotente invece in questa maniera anche il genitore stesso può trovare la strada per poter affrontare la questione quindi senza spaventarsi sostenendo l'angoscia assieme a qualcuno perché sono situazioni molto angoscianti e quindi diventa un po' un lavoro familiare in questo senso cioè separatamente l'uno e l'altro però ecco verso una direzione che possa essere diciamo più confacente lo step successivo al riconoscimento della malattia? lo step successivo al riconoscimento della malattia è proprio la presa in carico la presa in carico che non è senza difficoltà perché si immagino sia il nodo cruciale poi sì è un nodo cruciale ad esempio perché mentre nella anoressia c'è un aspetto ego sintonico nel senso che la persona non sente di dover andare da qualcuno perché c'è tutta questa autocura questo controllo questo controllo totale con il cibo che c'è proprio tutto un lavoro molto importante nella bulimia invece è ego distonico cioè c'è come la perdita del controllo col cibo e allora è più facile entrare nel rapporto con il soggetto bulimico lo step successivo è quello appunto come dicevo prima da un lato trovare il sistema di disangosciare con un'altra modalità più confacente diciamo meno imperdita da un punto di vista di vita proprio perché qui si parla proprio di vita quindi piano piano il soggetto riesce anche ad acquisire a poter mangiare senza doversi difendere perché ha trovato un altro modo per potersi difendere quindi è questa la cosa che è importante che si sappia che è un tentativo di autodifesa di protezione, di tutela ma trovando una tutela differente una protezione e un sintomo anche diverso che possa essere più dialettico si può uscire da questa c'è sempre di mezzo questo rifiuto che ritorna fuori un po' così però è il modo di poter affrontare che è diverso insomma chiaramente sarà un percorso lungo quindi non c'è da preoccuparsi se i tempi comunque richiedono l'importante è poterlo fare l'importante è darsi la chance e la possibilità di darsi una possibilità ci sono si può fare non bisogna spaventarsi spaventarsi troppo insomma al giorno d'oggi si parla tanto di consapevolezza forse questa è la chiave per riuscire non solo a risolvere problemi anoressia e bulimia ma un po' quello che è un po' tutto lo schema mentale dell'individuo sì beh in qualsiasi cosa avere la consapevolezza la vera padronanza perché ad esempio nei disturbi alimentari c'è una presunta padronanza invece la vera padronanza è al di là cioè c'è anche c'è un altro step importante cioè conoscere il proprio modo di funzionare quali sono i meccanismi che scattano quando ci troviamo in difficoltà o in relazione con gli altri ci permette poi di proteggerci da quello che può succedere che incontriamo nel rapporto con gli altri insomma per cui ecco possiamo stare nel mondo si può stare, si può sostenere l'angoscia che viene e quindi si può avere un legame sociale al di là di un sintomo ecco dietro di noi ci sono una bella serie di libri quale consiglieresti a chi vuole approfondire la psicoanalisi o anche le tematiche di cui stiamo parlando in questa puntata di vivere? allora ad esempio ci sono per sfatare il mito che la psicoanalisi ha una durata interminabile ad esempio ci sono gli effetti terapeutici rapidi in psicoanalisi nel senso che diciamo che la psicoanalisi può avere degli strumenti particolarmente diciamo raffinati per poter cogliere anche in alcune sintomatologie proprio il nocciolo vivo e poi quindi lavorandolo si possono avere anche recuperi di situazioni che possono apparire anche come scompensi cioè velocemente perché proprio c'è un andare a fondo in quel piccolo dettaglio che può essere poi il perno della costruzione esistenziale di un soggetto ad esempio per la questione anche dei disturbi alimentari ce ne sono tanti ad esempio mi viene in mente questo testo di Cosenza il cibo l'inconscio dove proprio viene presentata la carrellata completa di tutti i disturbi alimentari e come si collocano appunto oggi e perché e come poterli trattare quindi modo per informarsi anche al di fuori sì anche al di fuori sono tecnici però insomma si può iniziare a capire una base diciamo allora io ti ringrazio per essere stata con noi in queste due puntate e averci illustrato spiegato che comunque da disturbi alimentari si può e si deve soprattutto uscirne siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Vivere io vi ringrazio per essere stati con noi anche quest'oggi vi lascio ai prossimi appuntamenti da Rezio TV noi ci vediamo settimana prossima con una nuovissima puntata Grazie a tutti